Io non voglio cercare scuse, ho partito a 12 e mezzo, si gioca alle 12 e mezzo, certo è che la prestazione di oggi non è ottimale, abbiamo fatto Maluccio anche se è avversario, ha fatto gol sul fuorigioco, c'è su posizione sbagliata nostra e su calcio d'angolo e quello fa risultato, poi ho sentito l'ultima frase che cercano di giocare a calcio e penso che hanno cercato di non giocare a calcio, nel senso ogni rimessa, tanto tempo perso, è un modo, è una squadra esperta, nel senso con l'età sicuramente avanti, fanno quello che devono fare. Da parte nostra, ripeto, per me mancava movimento senza palla, noi abbiamo giocato sempre sui piedi di un compagno e loro, sapendo che loro sono molto aggressivi sulla palla, abbiamo pagato, abbiamo sviluppato poco, forse secondo tempo qualche palla-gola abbiamo creata, però non è bastato. Ah beh, lì è solo il problema di attenzione, è vero che ci è arrivato molto bene colpitore di testa lì, su quella palla, ma io ne avevo due vicini che si lasciavano portare via dalle posizioni e hanno lasciato quello spazio. Mi se la preoccupa questa sconfitta, mi spiego, rispetto alle partite precedenti, oggi la sua... Mi preoccupa l'atteggiamento, ripeto, noi dobbiamo proporre, dobbiamo giocare sui movimenti e sui spazi. Se giochiamo sui piedi di giocatori fermi non arriviamo mai e molto spesso regaliamo palla versare. Il problema di approccio mentale, non fisico, al di là dell'orario? Il problema è che non hanno ancora chiaro che devono farlo, nonostante tre mesi di lavoro. Siamo un po' indietro, siamo indietro, siamo indietro, come concetti siamo indietro. Il giudizio sulla prestazione di Ben Ali, gli aveva augurato una grande gara, ha fatto gol su rigore, poteva farne forse altri due. Qual è il suo indietro? Ha fatto la sua parte, poi di nuovo discorso che chi vuole palla deve andare dentro per poter fare gol. Lui fa molte cose fuori dall'aria e quindi deve lasciare lì spazio a Telsino, a centrocampista. Diciamo che pendeva un po' a sinistra la squadra con Brukman e Zala e Ben Ali, no? E loro sono amici. Infatti con questa squadra bisogna cercare di cambiare veloce, di scivolare palla da destra a sinistra, da sinistra a destra. Noi abbiamo queste terzili che si fissano che devono arrivare per forza anche se sono in inferiorità numerica.